1 milione e 881 euro è la cifra ricevuta dal Comune di Padova per la regolarizzazione da artigianalia commerciale della parte posteriore del China Ingros. La cifra, che comprende oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione, sarà impiegata da Palazzo Moroni per il rifacimento di asfalti e marciapiedi. L'assessore al commercio Antonio Bressa ha sottolineato come ciò non significhi la cessazione dei controlli sul fatto che le vendite siano all'ingrosso e non al dettaglio e sulla qualità delle merci.